Cari amici, ricordate i bambini di Povia, quelli che fanno ooooh, ecco, siamo noi, siamo tutti noi, perché da qualche tempo, per esempio, in Veneto si sta parlando del rigurgito delle mafie, delle criminalità organizzate che inquinano il mercato, eccetera, e scusa, ma dove eravamo, dico eravamo, perché io sono anni che lo scrivo e lo dico da emittenti private che questo pericolo c'è, e le prime volte qualcuno mi, ah sì, ma no, la mafia non esiste da noi, è lo stesso principio per cui dicevano negli anni 50 e 60, no, la mafia non esiste, è una cosa che si inventano i giornalisti, certo, è una cosa che si inventano i politici per screditare i siciliani, i calabresi, eccetera, la mafia non c'è. Bene, adesso tutti parlano di questo problema e la Regione Veneto giustamente ha fatto una legge antimafia, io ne ho scritto tempo addietro, ha fatto una bella legge, perché non sia un monumento all'illusione, al bla bla, perché abbia un reale impatto su questo fenomeno, bisogna andare oltre, non deve essere niente di meno che una rivoluzione, cioè deve essere un qualche cosa che operativamente prenda per mano i cittadini e insegni che cosa è la mafia, le mafie, per comodità chiamiamo mafia tutte le organizzazioni criminali, ma non è solo quella che viene dalla Sicilia, quella con la coppola, spesso e volentieri i mafiosi hanno giacca e cravata, parlano inglese, hanno bei modi, non sono così truculenti, sono quelli che hanno vissuto investendo capitali ovviamente certamente illeciti in cose lecite, così facendo, sgominando la concorrenza, rovinando il mercato, rovinando le vite di tutti noi, di tutti noi. Bene, se la regione fa questo passo, sarà la prima in tutta Italia a fare questo passo serio, vero, metta fondi su questo, la mafia non si combatte con i carabinieri, non si combatte con la magistratura e basta, la mafia si combatte particolarmente con la cultura, con il cervello, con la conoscenza, ecco, con la cultura della legalità, ne riparleremo.